Ciao, sono Luigi Magni, chef del ristorante Stefano il Marchigiano in Milano. Oggi siamo a cuocere il seabas con artichocchi. Abbiamo bisogno di questi ingredienti. Seabas, artichocchi, salto, lemon juice, basil, flour, rosemary, garlic, parsley, e qualche acqua. Prima di tutto prepariamo la sauce che useremo per cuocere le artichocchi. Prendiamo il flour e lo mettiamo in una pancia. Aggiungiamo un oliva di oliva extra. È sufficiente. Mettiamo gli ingredienti insieme. Aggiungiamo un'acqua fresca, un'acqua di limone, due basil, rosemary e garlic. aggiungiamo un'acqua di acqua, e mettiamo la pancia sul foglio. Ora puliamo le artichocchi. È meglio usare le artichocchi fresche. Cutta la stampa prima. Poi, cutta le letture esternali, fino a che vedete la parte bianca. tagliamo la parte bianca. cutta la parte bianca. Cutta la parte bianca. Cutta la parte bianca. Aggiungiamo la parte bianca. Aggiungere gli artichocchi e girare il fuoco. Gli artichocchi sono sul fuoco. Let's cut the fish. La maggior parte il fish is cut from the back. Preferisco iniziare dall'altra parte, con le ghi. Faccio due incisioni in questo modo e prendo il fuoco. Continuando a cut the backbone. It's important to keep the knife as close as possible to the backbone. In questo modo, it will be very easy to open the fish. Take away the fish bones from the belly. And cut the fillets away from the skin. Cut away the dirt. Make an incision in the middle, as some fish bones are still there. And cut away the bloody part. The artichocchi are ready. We cut the fillets and put them in the pan. Cut in this way, in large pieces. And now in the pan. In 3-4 minutes, on the fire, the sea bass will be cooked. Add parsley and chopped basil in the sauce. And the dish is ready. And the dish is ready. And the dish is ready.